Ciao a tutti da Chicca e da Leonora oggi in atteso proprio mi è arrivato questo pacco penso sia sempre di uno degli ordini che ho fatto con Wish ma io sapevo che alcuni pacchi dovevano arrivare intorno alla fine di marzo inizio ad aprile e invece c'è questa novità adesso vediamo insieme che cosa c'è all'interno lo vediamo io non so niente quindi sono super sorpresza sono uno, due adesso vediamo insieme che cosa c'è allora prendiamo il primo pacco è sottile, sono tutti sottili veramente? sì, vediamo un po' non mi ricordo niente vediamo ah, 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 ok è un qualcosa di verde sì, allora, ecco qui, adesso vi faccio vedere ma allora, ecco che cosa mi è arrivato però, allora, avevo preso questo qui come taglio per poter, cioè, praticamente per poter tagliare sopra ma, eh, sinceramente non sono queste le misure che io ho scelto perché là, diceva, eh, dava le misure a 5 però con i centimetri devo controllare perché a me sinceramente non, eh, è piccolo sì, è piccolo e io non avevo chiesto queste misure qua io avevo preso le misure più grandi poi vedo perché nel caso in cui fosse faccio anche il rimborso di questo come è successo l'altra volta voglio vedere poi, c'è un altro ecco, vediamo questo mi aspettavo che questo arrivasse eh, nella mh, nel contenitore come posso dire, come l'altra volta che vi ho fatto vedere anche questo l'ho preso gratis ed è eh, lo steampunk lo stile è con tutti gli orologi, ingranaggi questo era gratuito c'era il eh, soltanto il pagamento della della spedizione però sinceramente se devo dire che sono soddisfatta mi sembrano soltanto rottami e non, eh, vabbè eh, vabbè e non quello che pensavo e non quello che pensavo ultimo pacco boh eh, sì, sì forse ho capito aspetta, non me lo dire voglio dire tadaaa il vassoio o comunque una sua tatasche da fare in resina ah non so se voi l'avete visto mai questo qui vabbè tante creative che lavorano la resina lo lo utilizzano e adesso ho detto l'ho chiesto pure io l'ho pagato pochissimo rispetto a a quello che vedo sui siti online italiani ma si apre dietro? no si mette la resina qua dentro poi dopo esce così piti 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 e il gioco è fatto e niente adesso vediamo un po' le tante cose mi arrivano che io ho ordinato per la resina e poi magari una volta che abbiamo tutto possiamo lavorare qualcosa insieme possiamo realizzare qualcosa insieme con la resina io ancora non ho acquistato la resina perché quello che avevo quella che avevo mi è finita voglio aspettare che mi arrivano tutte le cosine che ho ordinato e poi vedremo insieme che cosa fare e niente di questa io non sono soddisfatta perché le misure non corrispondono a sì è una 5 però la misura in centimetri non era questa anche se uno dice sì ma la 5 ai centimetri in maniera non lo so diverso sì ma comunque sinceramente non era questo il foglio che io mi aspettavo però adesso andrò a vedere e poi vi farò sapere ok ci vediamo al prossimo video grazie per la visione vi saluto con Eleonora ciao mi raccomando mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi tutti i nostri video ok e non so al prossimo video che cosa sarà io ho ancora il problema con i cellulari quindi sto riprendendo con cioè con i cellulari con il computer quindi sto riprendendo col telefonino devo fare l'edit con il telefonino insomma mi devo liberare un po' la memoria eccetera eccetera non vi voglio annoiare ci vediamo al prossimo video ancora grazie un bacio a tutti ciao 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 ciao